Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi torniamo, dopo un po' di tempo, vi dico la verità e non vedevo veramente l'ora a parlare di stampanti 3D Intanto vi mostro due nuovi prodotti che ci sono arrivati a casa che poi vi mostrerò dettagliatamente in un video a parte perché in questo video qui parliamo soltanto della bobina del filamento in eco PLA che vi faccio vedere Ci è arrivata la Frozen Sonic Mini in 4K Praticamente della Frozen è l'ultima uscita È come l'altra Mini, ha il piatto forse leggermente più grande ma questa stampa 4x di velocità e soprattutto risoluzione 4K e ve la faremo vedere quanto prima Mentre invece quest'altra, che forse l'avete vista una volta in qualche foto o qualcosa del genere ma comunque abbiamo ordinato la nostra prima stampante a filamento e questa invece che ve l'avevo fatta vedere mi pare in una foto è l'Artillery Genius che abbiamo ordinato da qualche tempo, da circa un paio di mesi ed è la nostra prima stampante a filamento e vedete che sta lavorando, sta lavorando con la bobina che ora a breve vi vado a presentare dopo la sigla Allora ragazzi abbiamo fatto un ordine da un sito perché onestamente abbiamo visto una pubblicità sul gruppo di stampe 3D italiano di Facebook è il gruppo aperto abbiamo visto la pubblicità di 3djake.it come tipi di PLA, ecco PLA che vi vado a descrivere e ne parlavano benissimo con recensioni altissime abbiamo detto proviamo un po' ad acquistare qualcosa da loro perché fino ad ora avevamo sempre comprato comunque del PLA o della Sunlu o dell'Anycubic abbiamo detto visto che c'è un marchio italiano che produce appunto filamento per stampanti FDM proviamo ad acquistare qualcosa e abbiamo acquistato qui vedete la scatola in cartone e la nostra prima ecco PLA che vedete lì sopra che sta lavorando dall'alto in diretta stiamo costruendo una casa per un GDR fantasy medievale e abbiamo acquistato appunto la nostra prima bobina dal sito 3djake e qui al lato ci sono scritte tutte quante le informazioni va bene il diametro è 1.75 quindi va bene praticamente per qualsiasi estrusore e ugello peso un chilo ovviamente una bobina da un chilo e temperature quelle sempre andate a vedere anche con quello che dovete fare col programma di slicer perché qui loro consigliano giustamente un minimo massimo che è da 195 a 215 noi ad esempio al momento stiamo lavorando col piatto a 60 gradi che va bene come c'è scritto sulla scatola e però l'estrusore lo stiamo facendo lavorare a 200 gradi che comunque rientra sempre nel minimo e massimo che ci danno loro dateci sempre attenzione e poi occhio dipende anche dal piatto perché magari un piatto si riscalda più difficilmente invece di 60 lo dovete mettere a 70 insomma quello dovete un po' conoscere voi i dettagli appunto della vostra stampante prima di mettervi a stampare qualcosa lo vedete ragazzi tranquillamente in diretta sta stampando un edificio che fa primo piano secondo piano e più il tetto quindi poi ve lo faremo vedere in un altro video particolare perché è bellino è una casetta che si può usare bivalente si può usare o per un gdr tipo giocate a dnd vi serve di rappresentare un villaggio medievale ci buttate questa casetta nel mezzo oppure se ne scala 28 mm lo potete usare per mordime, warcry insomma per tanti wargame a stampa fantasy ma anche secondo me in un'altra ambientazione come vedete questo qua su poi tanto vi farò un video a parte è il sensore del filamento che potete anche lavorare senza quindi nel caso lo volete disattivare o si rompe la stampante funziona uguale però a cosa serve il sensore di filamento? se il filamento dovesse bloccarsi, incepparsi o finire la stampante si ferma si ferma direttamente perché non riconosce più il sensore appunto che passa dentro il filo il filamento di PLA ferma la stampa voi cambiate la bobina e riprende esattamente da dove l'avete lasciato se non ci fosse questo lei contenerebbe a stampare però non butterebbe niente quindi praticamente vi rovinerebbe ore e ore di stampa anche perché una stampa del genere dovrebbe prendere tipo 20-24 ore insomma un giorno intero però è un edificio fatto su più piani il filamento quello della 3D Jake che ricorda essere italiani è un filamento loro, è un filamento in eco PLA quindi vi lascio il link in descrizione e quando andate ad acquistarlo ricordatevi che è un filamento eco PLA diametro ve l'ho detto per l'ucella e tutto quanto e si sta comportando molto bene devo dire la verità stampando a 200 gradi che è la giusta via di mezzo con l'estrusore e il piatta a 60 ragazzi si sta comportando da paura e quando la stampante o almeno la nostra Genius penso più o meno tutte quando partano fa sempre una riga di prova per vedere se il filamento attacca e voi ci dovete passare basta anche soltanto un'unghia per vedere che non si stacca perché se si stacca vuol dire che l'era iniziale l'ha fatto male invece rimane ben attaccato quindi ragazzi è un filamento da paura che ricompreremo siamo molto contenti dell'acquisto ed è questo qui praticamente la riga iniziale è molto flessibile è anche bello resistente vi devo dire la verità però occhio una stampa potrebbe fallire comunque perché se sbagliate il profilo dello slicer ovviamente vi stampa male eh ma il filamento è il filamento no se qualcosa non stampa e vi assicuro sulla nostra pelle la colpa è vostra non è del filamento poi ci sono i filamenti migliori i filamenti peggiori e scadenti però comunque nel 99% dei casi la colpa è vostra quindi ragazzi andate a dare un'occhiata a questo ecco PLA che viene sulla ventina d'euro 21, 22 e una cosa del genere trovate il primo link in descrizione sul sito di 3D Jake ve lo diciamo tranquillamente ci siamo trovati benissimo e vi faremo vedere la stampa che tira fuori che sarà un bel edificio medievale e siamo molto contenti per ora sta attaccando anche bene al piatto non sembra aver fatto nemmeno le solite caccoline cose del genere quindi sta andando alla perfezione fatemi sapere un po' cosa ne pensate spero di esservi stato utile ciao ragazzi alla prossima ciao